Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui lo Stato sono io. Dicito se gli apparti devono andare a Roma, dove lo staranno a fare? Chi deve lavorare? Chi deve stare con qualcuno a terra? Qui lo Stato sono io. Io credo di rimettercela tutta. Un'altra recita subito veloce e veloce, senza mai fermare. Parliamo su Paolo Borserino. E' un'acqua che è il suo giudice. Forse non ha capito che a Campariamo sta cominciando a rompere. Ora lo abbiamo fatto parlare. Ora deve essere eliminato. Chi si sta parlando assai? È il giudice com'è questo? A tutti i pentiti fa fare lo dobbiamo eliminare questo giudice. Ora giudicate voi. Viso, sguardo, espressione. Telecamera che me la mangio, manco la guardo la telecamera. Voglio una chance. Essendo siciliano 40 anni, sembro piccolo, me la voglio giocare tutto. Ho carattere dentro. Dovete darmi la possibilità di fare un ruolo. Come si deve. Non ha comparsa, cacamino e mancome vivo. Datemi un ruolo. Aprite che i siciliani, senza offenza per i romani, possono fare tanto. E quando vengono i romani a recitare il palenditano, fanno cacare. Quando abbiamo siciliani che possono recitare tantissimo. Credo che mi sono spesso in tre parole. Le mie esperienze che ho avuto, ho fatto la scuola antimattia, la catturante. Però sempre piccole apparizioni. Voglio di più. Voglio che un regista e un cilinanista può fare. Può fare perché la tessa lava, la bellità lava. Io ce l'ho bello di recitare parti siciliani che potranno fare tantissimo. Datemi l'opportunità. Solo questo. Sguardo, occhi, viso, siciliano. Ma che cosa pulite? Il mare, la Sicilia. Ma che cosa pulite? Su vecchio. Credo che mi sono espresso in tre parole. E concludendo. Fate lavorare i palermitani.